Nessun altro testimone di mafia è stato tanto cruciale o tanto importante come Buddy Isis Israel. Voglio Israel morto. Buddy Israel? È un idiota superato, tossico, spia di merda, stronzo, fallito a tutto tondo. Che intendi dire? La tariffa? Un milione tondo. Un milione attira l'attenzione di molta gente. Che avete in mente? Orecchiano. Gli scaricheranno montagne di proiettili nel culo. Non devono riuscirci. Quando ci preoccupiamo? Si attenteranno alla sua vita. A farlo saranno professionisti di alto calibro. Porco cane. Parti. Cuomo terra! Cuomo terra! Vi hai sparato e hai ammazzato i miei amici. Sì. Scusa. 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 Grazie.